Una situazione di assoluto abbandono del territorio con ingenti rischi e pericolo per la salute pubblica. Nella via Borone Celsa, in località Fontanelle, su delle panchine destinate allo svago e alle sedute delle persone, degli abitanti del quartiere sono state trovate, come dalle foto e dalle video che state vedendo, numerosissime zecche e quanto Samani ha denunciato attraverso una sua lettera aperta all'Aspi di Agrigento e all'Ufficio Ecologia del Comune della Città, il responsabile del movimento civico Mani Libere, Giuseppe Di Rosa. Per Di Rosa, anche l'Asp ha più volte sollecitato le pulizie e le disinvestazioni straordinarie al Comune di Agrigento, la situazione igienico-sanitaria del territorio del Comune Agrigentino e ai limiti della vivibilità. Per Di Rosa, in tale stato di abbandono, è naturale il proliferare di animali di ogni genere e purtroppo anche di alcuni esemplari di zecche della famiglia dei rarachnidi, che si attaccano spesso ostinatamente alla pelle, di cui succhiano il sangue per giorni. Il morso di solito non è doloroso e non causa prurito, per cui può passare anche inosservato. I problemi che a causa si limitano di solito a una lesione locale nella sede della puntura, raramente seguita da sintomi generali. Alcuni tipi di zecca possono anche trasmettere con loro morso gravi malattie, tra cui la malattia di Lyme. L'esistenza di questi velenosi insetti è causa di forte preoccupazione degli abitanti del quartiere di Fontanelle, che purtroppo preferiscono non soffrire delle panchine e degli spazi pubblici. Pertanto, con la presente, il responsabile del Movimento Civico Giuseppe Di Rosa chiede agli uffici comunali, ognuno per la sua competenza, di volere provvedere con assoluta e mediatezza onde prevenire eventuali infezioni e proliferarsi di malattie trasmesse da animali all'uomo.